Continuiamo con il reportage sulla mia esperienza PRK laser per la miopia, sono le 9.30 di mercoledì 10 febbraio 2016, quindi il secondo giorno sostanzialmente, mi sono svegliato da poco più di mezz'ora, ho già fatto colazione e questa è la situazione. Io ho la vista di Superman praticamente, nel senso che come diceva mio amico, forse i primi giorni hai un po' di percorrezione, quindi vedi veramente molto molto bene e sono emozionato, palesemente euforico per questa cosa, soprattutto perché non sento dolore, non sento fastidio, non sento nulla, vedo benissimo, sono in una stanza con piena illuminazione, faccio vedere, c'è una finestra aperta, c'è una giornata di sole e non ho nessun tipo di protezione, non ho bisogno di mettere occhiali da sole, cioè nel senso non sento l'esigenza, benché sia vedo che tutti più o meno li mettono anche dopo l'operazione, io non ho sentito l'esigenza, anzi se metto occhiali da sole mi sembra di dover sforzare di più gli occhi perché vedo buio e quindi devo vedere meglio e quindi non vedo proprio la necessità e sto bene così, non so se sono un miracolato rispetto alla media di quelli che fanno questo tipo di operazione o semplicemente il brutto deve ancora venire, non lo so, come ha detto il medico, il periodo più delicato è dopo le 24 ore, quindi adesso siamo ancora a distanza di 14 ore dall'intervento, l'ho fatto ieri alle 1.30 circa, all'una, però stanotte tra l'altro ecco la notte è passata veramente easy, mi sono messo a letto un po' presto perché ripeto la giornata è stata un po' stressante e quindi ero un po' stanco e ho preso il sonno abbastanza normalmente, sarò a dormire attorno alle 11.30, 12 meno un quarto e mi sono svegliato con una filata unica, quindi non mi sono alzato di notte, non ho interrotto il sonno, una filata unica alle circa le 9-10, una roba del genere, senza problemi nel senso che sono andato a letto con una sensazione di occhio appannato, quindi vedevo bene, però vedevo, nel senso a livello di messa a fuoco vedevo bene, ma c'era questa sensazione di appannamento appunto come se ci fosse un vetro con del vapore davanti, questo ieri sera, ieri sera però comunque ho messo tre, i vari colliri, probabilmente erano quelli che facevano un po' di effetto impastato all'occhio, invece dopo queste 9-10 ore di sonno senza mettere liquidi nell'occhio, mi sono svegliato con questa visione perfetta e impressionante e senza nessun tipo di fotofobia o di fastidio nell'occhio, come se l'occhio si fosse anche abituato ad avere dentro queste due lenti protettive che ho. Adesso ricomincio a mettere i due colliri, cioè il collirio 1 a base di diclofenac, quindi è un antinfiammatorio, e l'altro è un naflux, un antibiotico, 4 applicazioni all'arco della giornata e magari tornerà un po' a quell'effetto di appannamento, ma è l'effetto credo appunto collaterale di questi liquidi che si mettono nell'occhio e che un po' si sovrappongono. Però ecco, l'esperienza è questa, cioè il secondo giorno è già positivo, ripeto, aspettiamo a cantare vittoria, tocchiamo ferro, che magari domani sono steso dal male, ho qua pronto dell'ibuprofene, nel senso che se dovessi proprio avere male male mi prendo una bustina, e spero di superare appunto le 24 ore critiche e poi vi aggiornerò. Però già il fatto che io riesca a stare qua di fronte a un tablet acceso e con una finestra aperta in piena luce del giorno, mi sembra che sia già un'esperienza positiva e sopra la media rispetto a quello che ho visto in giro. Bene, aggiornamento a stasera, a tardo pomeriggio, grazie.